E' così, e' così, non venite qui con me, qui con me, ma sveremo un, due, tre, un, due, tre. L'associazione per mito ETS, oltre a organizzare concerti e altre iniziative, organizza queste lezioni nelle classi prime della scuola primaria e della scuola elementare per proporre i rudimenti del linguaggio musicale. Proprio all'inizio, quando i bambini cominciano ad apprendere il linguaggio delle parole, dei numeri, si scolarizzano. Perché? Perché è un progetto, certamente, di pedagogia musicale, ma che ha anche una grande finalità di inclusione attraverso il linguaggio della musica, che è un linguaggio universale. All'inizio dell'anno siamo partiti con un cartellone bianco, molto triste, non conoscevamo canzoni. Piano piano, ad ogni lezione, abbiamo imparato una canzone, una lettra e siamo arrivati alla fine dell'anno ad avere un cartellone tutto colorato con le caratteristiche della musica che i bambini hanno imparato durante le nostre lezioni. Io ringrazio tantissimo gli esperti del progetto Mito che in questo momento si sono rivolte alle classi prime della scuola primaria per offrire delle lezioni a titolo interamente gratuito che sono state veramente di rilievo per i nostri docenti e per i nostri bambini nello specifico. I bambini hanno imparato il ritmo, hanno imparato a cantare, a fare un laboratorio musicale e di canto stando insieme, un laboratorio inclusivo, addirittura cantando, utilizzando anche il linguaggio dei segni, perché abbiamo dei bambini purtroppo non identi, quindi veramente più di così non avremmo potuto fare e non avremmo potuto fare. Grazie, grazie, grazie. Ci rivolgiamo quindi a scuole periferiche, non del centro naturalmente, dove i bambini e le bambine provengono da tante parti del mondo e hanno tante belle differenze. Queste oggi sono le lezioni conclusive che ci danno il senso di aver fatto qualcosa di bello e di buono. Grazie.